Allora facciamo la non chiarezza sui tamponi e sui test per il Cov2 e questa non è una battuta perché veramente c'è una confusione nella scienza tremenda su questi test e voi cittadini dovete assolutamente sapere le cose per essere informati su cosa vi fanno. Io ho fatto una raccolta dei dati più affidabili dalla più alta letteratura scientifica possibile dal New England Journal of Medicine, The Lancet, Science, MIT Technology Review e sto cercando in questo video di spiegarvi le cose nella maniera più semplice possibile. Allora i test per rilevare il Cov2 che è il nome del virus e la Covid-19 che è il nome della malattia sono due, il tampone nasale o larybofaringeo ma adesso si fa più il primo e l'esame del siero sanguigno. I tamponi sono validi per trovare il Cov2 attivo nella persona adesso perché sul tampone viene fatto l'esame RT-PCR Roma-Torino-Palermo-Cagliari-Roma da Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction che rileva i pezzi di RNA virale specifici proprio del Cov2 poi li amplifica e li vede con una buona precisione. Anche qui ci possono essere gli errori ma meno. Quindi un tampone RT-PCR positivo ti dice che hai il virus adesso ma se tu l'hai avuto in passato la RT-PCR non lo vede più e dà negativo. Può sembrare una buona notizia ma invece c'è un grosso problema. Un soggetto che esce negativo dal tampone non saprà mai se in passato ha avuto il contagio o no. Quindi non saprà mai se in questo momento è immune o no. In soldoni essere negativo dal RT-PCR ci dice per certo che non siamo spargitori di contagi adesso ma non ci assicura che domani non ci contagieremo. Per capire se uno è mai stato contagiato e se ha sviluppato la famosa immunità va fatto l'esame sirologico, l'esame del sangue. Ma anche qui le cose non sono sicure per niente. I test cirologici del momento, se sono positivi, rilevano di sicuro la presenza nel soggetto di anticorpi ai coronavirus che sono una classe, una famiglia di virus molto noti che vanno dal raffreddore alla SARS ma hanno difficoltà a rilevare con precisione proprio gli anticorpi specifici al solo COV-2. Questo è il grande problema. C'è una gara frenetica fra le biotech corporations per produrre oggi un test cirologico totalmente affidabile in questo. Cioè che di certo risponda solo agli anticorpi del solo COV-2. Infatti nessuno dei test cirologici in circolazione dà questa certezza. Oggi non ci sono. Si parla di possibili errori, cioè ti dicono che sei appunto positivo al COV-2 ma in realtà sei positivo a un altro coronavirus qualsiasi. Si parla di errori dal 20% dei test in su. Il problema è quello della cross-reactivity, cioè il problema è che gli aminoacidi di queste spike che vengono fuori dai virus, dai coronavirus, questi aminoacidi fra il corona del raffreddore, fra il corona della SARS e il corona del COV-2 sono identici dal 60 al 75% per cui il sistema umanitario si sbaglia facilmente. Comunque, i problemi poi del test cirologico non finiscono qui. Se risulti positivo agli anticorpi ma stai bene, non sai se sei ancora infettivo o meno. Quindi è difficile dirti tu non sei più un pericolo per gli altri, torna a lavorare. Né sai se per caso sei invece positivo agli anticorpi perché sei a poche ore dallo scopo della malattia. L'essere positivo al sirologico e stare bene per lungo tempo, ma per lungo tempo, beh allora lì ti dice che probabilmente sei diventato immune. Ma ancora non si sa quanto duri un'immunità al COV-2. C'è chi dice in letteratura scientifica che dura un mese, basta. C'è chi dice che dura di più. Non si sa. Infine, se sei nei primi giorni del contagio, cioè ti sei infettato ieri sera e oggi pomeriggio fai l'esame sirologico, l'esame non vede gli anticorpi perché il sistema immunitario ci mette del tempo a comparire sulla scena. Allora, quale sarebbe l'ideale? L'ideale sarebbe risultare positivi al test sirologico ma negativi al tampone RT-PCR. Che spiego, col test sirologico positivo sai che sei stato esposto a un coronavirus e speri che sia questo COV-2 e non un altro. Ma una RT-PCR negativa ti dice che di certo, quasi, non l'hai più. Al momento così stanno le cose purtroppo. Questo è un video che va riascoltato diverse volte perché è più semplice di così, non lo si può fare senza omettere dei punti importanti. certezze assolute non ce ne sono, zero. E poi, purtroppo, adesso c'è un problema che c'è una corsa frenetica ad approvare dei test, sia dei tamponi che dei test sirologici, che vadano di fretta, di fretta. Però più vanno in fretta e meno sono accurati. Cioè non c'è validation, come si dice in termini scientifici. Pensate che è una RT-PCR fatta bene, ci mette delle ore e va ripetuta due volte per avere due positivi consecutivi, quindi, o due negativi consecutivi. Quindi il paziente il risultato ce l'ha, la persona, il risultato ce l'ha in giorni. I tamponi sierologici abbiamo visto, tutti i problemi che hanno. Quando vi dicono che stanno uscendo questi kit, che in cinque minuti ti dicono se è il coronavirus o no, vi raccontano delle clamorose balle. Non sono affidabili e non lo saranno fino a che la tecnologia non andrà molto avanti. Questo è lo stato di cose, siete informati, mi dispiace non potervi tranquillizzare di più, ma questa è la situazione.